Il viaggio di Orlando, itinerario letterario e fantastico in occasione dei 500 anni delle prime letture pubbliche di Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. È una mostra sicuramente molto interessante perché mette insieme un grande illustratore, sicuramente il più grande illustratore dell'Ottocento, con una grandissima opera della nostra letteratura italiana. Gustavo Doré non è soltanto l'illustratore della Divina Commedia e dell'Orlando Furioso, ma illustratore della Bibbia, illustratore di Alain Lampot, di Baudelaire, di Su, illustratore di Cervantes, Don Quixote. Per esaltare la forza poetica e il potenziale fantastico di questa opera, la città di Senigallia la celebra attraverso alcune iniziative finalizzate a coinvolgere un pubblico più vasto possibile. Paolo Mirti, dirigente Area Cultura e Comunicazione del Comune di Senigallia. L'amministrazione comunale ha inteso valorizzare questi 500 anni dell'Orlando Furioso, delle prime letture pubbliche di questo capolavoro del Ludovico Ariosto, e l'ha voluto fare in un modo un po' inusuale, cioè con una serie di appuntamenti che cercano di valorizzare il grande aspetto di racconto globale, e la grande capacità di fascinazione di quest'opera, attraverso un bellissimo spettacolo itinerante realizzato dalla compagnia Elmilograno, in collaborazione con Calicanto, sabato 15 dicembre, che porterà l'avventura, il canto, l'amore di Ludovico Ariosto lungo i luoghi più belli della città.